ciao a tutti bentornati sul canale in questo video voglio mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto inerenti lo scrapbooking o comunque la decorazione di agende eccetera sono stata sia da teddy sia da action e questo è il mio bottino adesso vi faccio vedere io direi cominciamo subito da teddy perché era una vita che non andavo in questo negozio e ho trovato sapevo che vendevano gli album per scrapbooking ma le fantasie non mi sono mai piaciute tanto quelli di teddy ho trovato casualmente invece questi due album quindi questo e questo qui sono degli album che sono 20 per 20 è una grammatura di 170 quindi sono cartoncini mediamente spessi e sono 36 fantasie due per ogni due fogli per ogni fantasia li ho pagati 3 euro l'uno è un prezzo che diciamo in confronto a quelli di action è il doppio praticamente però confronto a quello che troviamo su internet direi che insomma tre euro per un album di questo genere che adesso vediamo e mi sembra un prezzo più che ragionevole allora sono entrambi in stile vintage io non ha molto il vintage se avete già visto qualche altro video sapete che non è uno stile che io amo molto però queste fantasie mi hanno mi sono piaciute particolarmente e adesso le vediamo insieme allora questo è il primo album è quello in rosa chiamiamolo così dove abbiamo queste carte che secondo me sono bellissime sono molto delicate come appunto decorazioni però per quanto mi riguarda sono bellissime sono delle carte solo fronte perché il retro è bianco e vi stavo dicendo che sono due fogli per ogni per ogni fantasia quindi questa è la prima fantasia la seconda fantasia invece questa è una specie di broccato con dei fiori e un moretto sotto poi abbiamo questa qui con le rose qui abbiamo sia del rosa che dell'azzurro e poi proseguiamo con questa che è un legno un legno rosa diciamo che per me non è una grossa novità perché l'avevo già visto in un altro album non mi ricordo più di che marca fosse comunque un legno rosa poi abbiamo questa che è un mix di scritte carte vecchie diciamo carta sembra quasi strappata poi abbiamo questa che è molto bella qui c'è una colonna qui ci sono delle ortensie delle peonie penso che siano e delle rose con il moretto dietro di pietre mi ricordano queste fantasie un album della stamperia non lo so perché mi ricordano come proprio come stile gli album della stamperia quelli vintage poi abbiamo dei qua qui abbiamo ai due angoli abbiamo sempre queste le peonie e le rose c'è del verde ci sono le farfalle successivamente abbiamo questa fantasia qui è molto bella perché questa ci permette di giocare tanto con gli abbellimenti poi abbiamo una colonna con i fiori e uno sfondo azzurro con queste farfalle bianche ma non sono neanche tanto predominanti le farfalle questa è molto particolare perché sotto c'è il gioco del domino suppongo c'è il domino se non dico la sciocchezza la scacchiera o in puzzle e qui c'è un gioco del bingo anche questa particolare qui solo farfalle rose le rose con i dadi quindi c'è un elemento predominante appunto questi giochi chiamiamoli scatolo comunque giochi e rose poi questa è bellissima con questa porta d'ingresso e qui abbiamo del dell'edera ecco probabilmente questa immagine lo utilizzerò come copertina di qualche album perché è come un invito a entrare nell'album quindi la trovo molto bella questa qui abbiamo una finestra un po messa lì così comunque questo sfondo marmorizzato appunto sempre con i nostri fiori qui eccoli qua i giochi che vi dicevo il bingo la dama ci sono dei giochi di carte sul fondo diciamo di legno poi andiamo avanti abbiamo questo orologio con questo damascato dietro abbiamo ancora del legno con qualcosa di rosa e poi l'ultima no questa è l'ultima quindi sono 13 fanta no cosa dico 18 fantasie si infatti sono 3 per 6 18 fantasie ripetute due volte infatti ho scritto anche qua il secondo come dimensioni grammatura della carta e lo stesso come stile è sempre uno stile vintage però qui siamo sull'azzurro e sul verde tra l'altro queste questi diciamo questi album si abbinano molto bene a degli sticker che avevo preso da action allora anche qui due fantasie due fogli per ogni fantasia qui vedete che abbiamo del beige e delle dei fiori sotto poi abbiamo delle rose azzurre molto bella anche questa qua qui abbiamo ai due angoli invece abbiamo delle foglie con delle farfalle e qui c'è una specie di pizzetto qua sotto ancora il gioco questo secondo me è più una tombola e questi secondo me sono tipo biglietti del cinema biglietti del teatro carina andiamo avanti con questa anche qui c'è una porta però delle due preferisco la porta rosa perché questa che sembra tipo un portone quindi portone di un di un cortile commettiamola così sempre sull'azzurro quindi preferisco l'altra come diciamo copertina qui abbiamo l'orologio franco bolli vedete c'è dell'azzurro dei fiori azzurri abbiamo ancora le nostre farfalle con le rose azzurre con del beige del verdino poi abbiamo questa che sotto dovrebbero essere tipo dei biglietti dei biglietti stilizzati e sopra c'è questa fantasia di fiori il muro di una casa allo spartito musicale e una finestrella di quelle si trovano soprattutto secondo me questi tipi di finestre tipo nelle casette di montagna e poi lo viste decorate così in montagna poi abbiamo degli alfabeti però su una fantasia verde con degli rigori e dei dei puntini bianchi questa è un po forse un po fuori contesto secondo me rispetto all'album però molto bella e anche perché c'è dentro sì dell'azzurro ma c'entrano anche del blu del viola insomma è un po fuori contesto per quanto mi riguarda qui abbiamo sempre il nostro pizzo con le rose qui abbiamo un cespuglio con questo sembra uno sfondo fatto a china a china quella fatta si soffia la china non ricordo alle medie avevamo l'ora di educazione artistica e c'era la china spruzzo ecco sembra un tipo il fondo di fatto con una china spruzzo farfalle ancora poi abbiamo questa che rimane molto scura comunque c'è una gabbietta degli uccelli e poi abbiamo questa con la chiappa sogni e sempre questo fondo azzurrino turchese questa qui con una chiave e questo mi sembra tipo un bracciale con un cameo se non dico se non vedo male ecco sotto spartiti musicali e poi l'ultima dovrebbe essere questa con il centrino della nonna e questi fiori sul toni del beige sul sfondo beige e questi sono gli acquisti che ho fatto da teddy io metà era tanto tempo che non andavo da teddy quindi non so se sono delle cose che sono arrivate adesso oppure delle cose che magari sono già lì da un po di tempo comunque io le ho trovate ce n'erano anche in quantità abbastanza alte quindi se vi interessa potete andare a fare un giro da teddy per recuperare questi album poi sono stata fatto una scappata dai cinesi perché volevo delle buste per fare sempre l'envelop book e ho trovato queste allora sono delle persone tiriamo fuori una vi faccio vedere sono una confezione da 25 buste gialle ok però la dimensione 180 per 240 sono abbastanza grosse hanno una grammatura di 80 grammi però tenete conto che rivestendole col cartoncino diventano più spesso e ne volevo tirare fuori una per farvi vedere poi il diciamo l'album come verrà grosso in pratica sono le classiche buste da da lettera che si usavano una volta l'apertura è qua quindi anche qui col solito sistema inseriamo e poi giriamo la pagina verrebbe secondo me un più o meno una dimensione la dimensione di una 5 sono leggere devo dire la verità rispetto alle buste che avevo comprato da action tra l'altro ne ho comprato un altro pacchettino che dopo vediamo perché è una dimensione ancora diversa sono più leggere infatti quelle di action che ve li faccio già subito vedere sono una grammatura da 120 questa invece 80 e si sente la differenza comunque si sono leggerissime però per quello che devo fare io che tanto si irrobustiscono va benissimo in modo tale che appunto riesco a fare un album tipo una 5 sono curiosa di utilizzare con queste buste gli album che vi ho fatto vedere prima quelli della di tv quindi questo comprato da action no scusate dai cinesi le ho comprate queste mentre da action vi stavo facendo vedere che ho comprato queste qui è sempre una confezione biglietti più buste però di una dimensione più piccola e soprattutto rettangolare rispetto a quella che avevo comprato un'altra volta perché l'altra volta se avete visto il video sul sulle velo book vi ricordate che era quadrato questo è rettangolare piccolo quindi sperimentiamo voglio sperimentare diversi formati di quel tipo di progetto e poi sempre da action ho comprato due album di stickers che sono questi non sono una novità perché una vita che li vedevo lì nello scaffale però non li ho mai presi questa volta ho deciso di prenderli perché perché mi sono ritrovata a corto di scritte e secondo me le scritte quando si fa una decorazione quando si fa una card quando si fa una pagina danno sempre quel tocco in più al alla decorazione stessa anche se magari sono scritte che non hanno molto significato in quel contesto ma per colore o comunque per per forma della diciamo per il tipo di scrittura danno quel qualcosa in più quindi ho preso questi che sono degli album di stickers dove ci sono anche le scritte devo dirvi una cosa c'erano anche altri colori c'erano quelli sul rosa quelli sul viola quelli sull'azzurro non li ho presi perché ho notato che in questi due adesso lo vediamo insieme ci sono delle colorazioni di scritte che secondo me sono un pochettino più diciamo come dire si possono un po adattare a tutte le diverse tipologie di decorazione mentre le altre secondo me le ho trovate molto riduttive ok adesso vi faccio vedere sono al di stickers dunque vediamo 25 pagine di stickers il totale di senior non so quanto siano alcuni hanno il foil e li vediamo insieme hanno l'elastichino interessante perché comunque non vanno in giro pagine per niente li sfogliamo velocemente ci sono sia stickers tipo washi tape chiamiamoli così sia delle anche questi sono tipo washi tape ci sono dei bollini chiamiamoli così e poi dei quadrati vedete qui ci sono già le prime scritte ci sono dei fiori c'è un po di tutto anche questi sono dentro si aspettate scusate un secondo si sono dentro con tutto anche queste file sono delle flag quindi delle bandierine washi tape scritte vedete qui c'è del poi loro anche il poi loro si può tranquillamente abbinare qualsiasi tipo di decorazione diciamo che secondo me sono studiata tomba davanti a sfogliare sono studiati principalmente per decorare le agende secondo me perché vedete che ci sono i tu tu non dimenticare importante poi ci sono anche vedete qua che ci sono tipo il telefono la pausa caffè quindi sono più che altro per le agende però vi ripeto io l'ho presi perché mi interessavano le scritte vedete anche qua ci sono altre scritte spero di essere dentro l'inquadratura sì anche qui vedete scritte scritte mi interessavano queste anche qua sotto ci sono una serie di piccole scritte sono adesivi proviamo a staccarne uno sì eccolo qua va benissimo proviamo a staccare uno di questi perché ho notato che gli stickers di action quelli anche quelli che ho comprato diciamo nelle nei fogli hanno il bordo bianco non sta malissimo però insomma se fossero stati rifilati meglio una volta applicati sulla decorazione non si vedrebbe diciamo questo bordo bianco che è un po' antiestetico certo è che pagare 90 centesimi e avere il la scritta cioè il contorno bianco va bene cioè non è che posso pretendere di avere la la qualità non tanto la qualità la la perfezione la rifinitura di stickers che magari costano quattro volte tanto è solamente per quello che non era la mente è solo un modo per dirvi che c'è in questo bordo bianco andiamo avanti velocemente perché sennò magari vi annoiate magari qualcuno di voi l'ha già comprato questo album non sto facendo vedere nulla di nulla di nuovo vedete qua cioè ce ne sono non so ce ne saranno centinaia ci sono anche le lettere dell'alfabeto che io non utilizzo quasi mai i numeri queste scritte qua con le bandierine diciamo vedete i mesi per quello dicevo che secondo me è più adatto per le agende però anche la scritta in fuori qua va benissimo eccetera e questo è il primo il secondo a parte che a stickers diversi per forma e per contenuto il secondo invece l'ho preso sui toni del chiamiamo zebrato ecco però vi voglio far vedere anche questi vi hanno il foil sono sempre 25 fogli e magari se lo metto così no no è meglio lasciarlo così vedete le scritte qua sotto anche qui ci sono un po all'animali air come si suol dire vedete la scritta nera che non è poi così tanto vincolante anche questa non sono vincolanti sempre fatti per le agende secondo me o per il bullet journal questo sicuramente perché c'è la settimana adesso più avanti vedremo anche altre cose che riguardano l'agenda vabbè quindi appunto c'è la zebra questa immagine con questa ragazza e leopardo ma alfabeti sempre gocce comunque pezzi di washi tape bollini chiamano così bollini anche qui abbiamo le lettere anche qui non dimenticare importante abbiamo delle piantine weekend comunque vedi che i colori sono tenue quindi si possono adattare benissimo a qualsiasi tipo di decorazione stiamo facendo anche questi anche se ci sono i giorni della settimana non importa però comunque la scritta rimane tenue è quello che interessava vabbè compleanno i segni zodiacali sempre la ragazza col giaguaro eccetera quindi anche se fate bullet journal o decorazione agende questi sticker secondo me sono interessanti soprattutto per voi diciamo io poi li devo riadattare vedete che qua c'è dell'argento anche queste scritte qua vanno benissimo nelle decorazioni guardate c'è l'argento con il foil quindi va bene va bene anche queste vanno benissimo qui c'è un'altra settimana ma mi sembra che si ripetano no non mi sembra che si ripetano anche questi bollini con le scritte bambinone vabbè qui ci sono i giorni della settimana come dicevamo prima anche qui tipo dei to do vedete tutto 4 do list e cactus che ci stanno sempre e poi abbiamo ancora fiori vado avanti questi sono piccolissimi ma va bene e poi a tra l'altro questi devo fare la prova volevo metterli per coprire vediamo come uno per coprire i buchi del se faccio un raccoglitore diciamo ad anelli e inseriscono i fogli questo posso metterlo prima di forare per vedere se rimane intorno un po di colore in modo tale che rimane il foglio con i fuori leggermente bordati di colore devo fare una prova eccetera eccetera è finito quindi questi non so cosa li ho pagati boh forse li ho pagati un euro un euro qualche cosa quindi pagati pochissimo van benissimo bene questi sono tutti i miei acquisti dell'ultimo periodo ovviamente stiamo parlando solo ed esclusivamente di hobby creazioni eccetera e spero di aver fatto vedere qualcosa che magari anche a voi può interessare io vi saluto o mamma mia tutte le volte prendo dentro sto coso vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao